No di Caltacqua, l'ordinanza emessa dal sindaco di Gela Domenico Mersinese con la quale è stato imposto il divieto di erogazione idrica nelle ore notturne in città. Il gestore del servizio idrico in provincia ha scritto anche al prefetto, al presidente del consiglio comunale, all'aspe al lato idrico CL6, che sta l'immediata revoca del provvedimento. Caltacqua ritiene che non ci siano le condizioni per l'emissione di una ordinanza condincibile e urgente. L'ordinanza rappresenterebbe un intervento nel rapporto contrattuale gestore-utente al quale il comune è estraneo. La società evidenzia che la distribuzione nelle ore notturne è quella che garantisce alla luce delle condizioni attuali della rete idrica l'erogazione in tutte le zone della città. Qualora si applicasse l'ordinanza, in alcune zone di Gela non potrebbe essere garantita la fornitura idrica. Oltre a ciò, le utenze dei quartieri di Machitella e Manfria, serviti dalla rete pubblica, dove attualmente la distribuzione è continua 24 ore su 24, verrebbero fortemente penalizzate dalla riduzione delle ore di erogazione. E su questo argomento Caltacqua aveva già fornito delle spiegazioni tecniche in occasione della riunione che si svolta al lato idrico CL6 il 28 gennaio scorso e nella quale erano presenti pure i rappresentanti del comune di Gela. Già dal 2010, con l'ausilio della turnazione nelle ore notturne in alcune zone della città, riferisce Caltacqua, la situazione legata alla distribuzione idrica è notevolmente migliorata, la frequenza dei turni si è ridotta e tutti gli utenti hanno la garanzia di essere riforniti. Ciò si evince anche dal fatto che da quando il sistema di erogazione idrica è stato assestato sulla distribuzione notturna, la percentuale di reclami legati alla mancanza di acqua è andato via via scemando in maniera considerevole sino ad essere oggi completamente azzerato. In merito invece al rifornimento con le autobotti, Caltacqua dice che l'attivazione della servizio nelle aree non servite dalla rete idrica necessita della sottoscrizione di una specifica convenzione con il comune. Da oltre due settimane l'ente di gestore del servizio idrico ha inoltrato al sindaco di Gela la bozza di convenzione rimasta però sin qui senza alcun riscontro. Caltacqua ha comunque già predisposto ogni propria azione utile per un rapido avvio del servizio.